La cam! Zio cam! Ragazzi, buonasera. Parto subito col spiegare il contenuto odierno che è molto semplice. Gioco con i sub, se fai più kill di me, vinci un codice da 10 euro. Se vi ricordate l'abbiamo già fatto, settimana scorsa o due settimane fa, ma non è diventato un video di YouTube. Perché? Perché nessuno mi ha battuto. Quindi, impegnatevi! Perché lo voglio trasformare in un video. Ma se nessuno vince, se nessuno vince 10 euro, che cazzo di video ci faccio? Ho necessito di almeno un vincitore. Ah, ovviamente non l'ho detto, ma se qualcuno si comporterà in modo antisportivo per vincere questa sfida, verrà gravemente punito. Con l'esilio dal canale, il permaban. E ragazzi, buona fortuna perché io ho già istruito Ribu in privato di lasciarmi tutte le kill per rendervi più difficile il battermi. Io me li immagino i miei sub che sono già tutti tipo in poligono con Gatorade, asciugamano, a riscaldarsi. Minchia mi devo riscaldare anch'io. Cioè, per l'occasione potrei usare Octane al posto di Catalyst per mettere un po' di pepe alla sfida, perché che gloria hai nel battere Nico che usa Catalyst, che la usa da due giorni. Pensavo di fare per ognuno tre partite. No vabbè raga, spoiler della leggenda della stagione 16, non ci credo. Ragazzi, se volete partecipare alle prossime sfide simili o anche solo guardarle dal vivo per intero, visto che quello che vi beccate qua su YouTube è un riassuntone alla fine, trovate il link di Twitch in descrizione. Vado live tutte le sere. Ci stiamo avvicinando a Natale, metto più ansia dei negozi che hanno già tutte le decorazioni, gli alberi. Regalo di Natale in anticipo da parte vostra, iscrivetevi se non l'avete fatto, così mi aiutate ad arrivare a 100k, a prendere la targhetta. Se vi siete già iscritti, mi piacino, commentate qui sotto per finire nel prossimo video e buona visione. Quindi, primo contendente per i 10 euro, Shine. Vabbè, Shine li vuoi subito, tieni, complimenti per i 10 euro, dai, avanti. Prossimo? No, raga, allora, Shine ha già vinto. No, Olympus, sb***o. Eh, che figata. Minchia era ora. Non me lo ricordavo. Eh, pure io, pure io. Vabbè, uè, triplo 69. Ma che strani sono i colori, essendo abituati alla luna distrutta? Sembrano straccesi, eh, sembrano stranissimi. Madonna, fa male agli occhi. Strasaturi, sembra di essere in un video di Lion, tipo. Shine sta adottando palesemente la strategia della morte allo start con lui una kill e io zero. Mi sembra abbastanza palese. Sì? No! No, non ci credo. Dai, 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 dai. No! Oh, non mi stacca! Ho zero colpi, io, non posso fightare. Zero colpi shotgun, non posso fightare. Mi voglio buttare giù, ribo. Grazie, ribo. Non ho più colpi, raga, non ho più colpi, eh, zero. E io zero, zero di tutto, zero di tutto. Io zero colpi di qualsiasi cosa. Comunque aveva otto straforte, me lo tengo, mi sa. Raga, forse salgono da sotto anche. Forse, non sono sicuro. Sì, ribo. Ho solo due kill. Mi sta salendo. No, raga, un HP, uno, ti giuro. Preso, preso, preso. Preso. Un buono start. Ribo, lo faccio per te. Ribo, lo faccio per te. Resto di eva otto. Quanto cazzo è forte? Ma sai, non me lo ricordavo, non lo usavo da un botto di tempo, devastante. Ma il glitch dell'earlo mio, boh, ma aspettavo venisse fixato in un giorno. Perché solitamente glitch che danno gioia o vantaggio ai giocatori vengono fixati subito. Invece ancora niente. Cioè, mi sa che non hanno neanche detto di essere una conoscenza su Twitter. Niente proprio. Dopo 18 pack sticker ho finalmente trovato Watson Nessie. 5.400 monete di pacchetti sticker. Minchia. Sì, sì, sta scendendo con la zip. Io mi avvicino. Ma ci sta ancora qualcuno sopra? Sì. Uno qua. Raga, mi sento... Mi sento freddo. Ok. No, 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 no. È arrivata la Valkyrie. Ribò. Peccato. Ah, figa, anche la Valkyrie 18.000. Vabbè, no, io non ho fatto un c***o. Per ora, una partita su tre andata. E via. E la 1559 su Catalyst. Ribò, quello là è tuo. Quello là è tuo. Ne ho uno davanti a me? Probabilmente sono morto allo start. Ah, ne ho due davanti a me. No, niente, mi levo. Sono... Ne ho due davanti, c'ho il 30-30. Però erano di team diversi, si fightavano. Brite e Vantage erano team diversi, fightavano tra di loro qua sopra, ribò. Non so se abbiano finito. No, 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 perché ancora zero knock. E... Cento bianco. Ok, sotto, sotto, raga. È quella partita. Shine, hai già vinto. Palesi. No, 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 no. Non è cool. E io non ho zero. È uno è maggiore di zero. Adesso una bella morte contro i campioni 1500 su Catalyst. È fatta. Provo ad arrivare, ma non ci sono. Raga, è devastato uno. Anche l'altro, anche l'altro. È one. È one. Sì, sì, sì. Sei a tre, sei. Che leader, vabbè. Vabbè. Non erano i campioni. Non erano i campioni, Ribò, ma ti pare, dai. Sì, io ero vissi tutti. Con tutto il rispetto per loro, però. Ma no, non avevano neanche Catalyst. Come no? Oh, sì, ce l'avevano. Ah, però l'Octane aveva la skin sbagliata. L'Octane aveva la skin sbagliata, quello sicuro. Io voglio fare leggi, quindi salgo con Jumpad da questa parte. Ok, li vedo, li vedo qua. Qua, no, 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 là sono. One shot, one shot. Gli ho fatto 80 io e non so quanto abbia. Così non va bene. Guarda, se lo confermo anche subito. Così non va bene. Così non va bene. A destra, raga. Sopra da me, sopra da me. Salgo. Bravo, Ribò. Hai già capito che devi intervenire. Lo vedo, lo vedo là davanti. No, ma perché ho l'armor vuota? Ma chi mi ha sparato, scusa? Eh, tu hai preso la mia vuota. Ah, ok, 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 ok. Mi sa che... Eh, questo game è difficile da recuperare, sì, 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 sì. Va bene, ho quattro, tu ne hai tre, no? No, io ne ho due, ne ho due, ne ho due io. Eh, vabbè. Eh, purtroppo la Watson lasciata a one shot... Raga, 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 è morto il campione, sto godendo. È morto, è morto, è morto. No, no, no. Mi sa che l'hanno solo confermato. Sta proprio qua. Io mi metto sopra. Ma stanno ancora qua, li vedete? Ma sai che non lo vedo? Ah, dietro? Può essere che vada... Eh, prende la torre di lancio, forse, eh. Io vado verso di lui, sì, la presa. No, ha trollato. No, non ci credono mai. Non ci crederò mai. Non ci crederò mai. Altri, raga, altri, altri. Altro team? Andiamo di qua, andiamo di qua, arribo, se riesci. Lasciamo, lasciamo sto ratto in caso, eh. Cioè, abbiamo un altro full team. Raga, ne sento uno sotto di me, tantissimo. No, non è vero, è davanti, cazzo. Oh, smiratissimo. Ne ho preso uno. Ho preso una bengalor io, eh. E una lobo. Ne manca uno solo di sto team. Dovrebbe mancare il path. Lai in fondo lo vedo. Mi pusha, mi pusha, è l'ultimo. Preso. No, niente. Niente? Eh, non ci sono, un altro team dietro pure, io. Eh, un altro team dietro pure, no, 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 no. Sta pieno, sta letteralmente pieno. Eh, mi seguono pure. Sta letteralmente troppo pieno. Si riesce a scappare in qualche modo verso di me. Ah, il campione è morto ora, raga. In verità era ancora vivo. Ma che cazzo. Mi sa che non era stato allora. Penso altri due team, anzi. Allora, recupero io al volo, recupero io al volo e vado indietro. Io mi leverai proprio dai coglioni che qua ci stavano 80 team. Altri, infatti, da me. Eh, questo è full team, no, no, no. Eh, questo è full team, infatti. Che palle. Oddio, quanti secondi ho? No, 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 sono free, sono completamente free. Sì, dovresti farcela e continuo a correre verso di te. Corro, corro, corro. Sì, 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 sì. Che culo, che cristiano quel mirage che non mi ha confermato. Che brava persona. Che brava persona. E ho pure preso il banner. Che brava persona quel mirage. Ah, è morto, il campione era... Il campione è stato eliminato, vi giuro, è la quarta volta. No, la terza. Il campione è stato confermato all'inizio. Poi è stato confermato di nuovo quando vi ho detto Ah, ma raga, il campione non era morto prima Ed è morto di nuovo adesso. Cioè, è la terza volta che viene confermata la catalyst con 1500 kill. La vinciamo, palese. Stanno pushando davanti, li vedo. Craccato uno dorato, un bel po'. Quello a sinistra, jeep, è bello craccato, è tantissimo. Hanno ultato e si stanno levando. È arrivato un altro team, però, eh. Vi ha pushato un team, vi ha pushato un team, sono sicuro. Avete un team sotto di voi, tipo un pat. Forse si ingaggiano tra di loro. È one shot quello, 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 quello in bolla è one. Quello in bolla è veramente poco. È morto, è morto, è morto. Io aspetto la fine... Se aspettate la fine della bolla, raga... Ok, preso. Altro team a destra. Da dietro, infatti. Eh, mi devo curare. A chi? Sì, raga. Sì, c***o. E ho addirittura salvato i 10 euro. Shine si è meritato almeno 5 euro. Non ci sta il codice da 5 euro, mi dispiace. Dai, ci si becca. Ci si becca, grazie. Grazie per le partite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Secondo contendente. Empire Ricky. Minchia, 17.000 kill in una stagione. Ma io l'altro giorno ho beccato un octane con 100.000 kill totali sull'account. Noi 87.000 l'octane dell'altro giorno. 87, sì. E, Ribbo, com'è andata a finire contro l'octane con 87.000? Non ho capito. Com'è andata a finire quando abbiamo beccato l'octane da 87.000? Gli abbiamo dato il giga, c***o. Gli hai dato, figa. Io in quel fight ho fatto 0 danni, me lo ricordo bene. Io in quel fight ho fatto tipo 10 danni a l'octane, se non sbaglio. Ah, Ribbo, io ti posso pagare in Monster, se vuoi. Vieni qua, vieni qua. E fatti confermare che mi hai fatto irritare parecchio. Da uno 10 al meno 7 e mezzo, c***o. E one shot all'horizon quasi non avevo ricaricato. Arrivo. Presa la rampart? No, io ho fatto 106 shot. Oh sì. Facile, facile, questa tripla. E ci ho rischiato di morire dalla lo buona panterona a pugni, minchia. Infatti a una certa per scappare ho fatto pure lo stimolante perché... No. No, 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 no. Questo mi colpisce al volo adesso. No, godo. Godo, 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 godo. Ma il team che era... Sì, sì, sì. Ma il team che ci sparava con Vantage. Dalla sopra? Oh, qua, sparano qua, sparano qua. Da me hanno... Da me hanno finito. Stanno risando da me? Non capisco se sopra o sotto, raga. Preso uno. È il team di Vantage, si godicchia. Oh, sì. Era one anche l'altro? Sì. Che sfiga. Eh, vabbè, non lo sapevo. Io ho sparato solo a quello appena risato, minchia. Non lo potevo sapere. Stanno sopra con New Castle. Col new c***o. Oh, se vuoi far vincere apposta a me. Eh, non vedo niente. Mi si è glitchato... Ok. No, ma dai, non c'è. Colpito uno poco. Io ho la Jumpad pronta. Ma sto team è un altro. Stanno qua, stanno qua. Li vedo. Preso uno. Ok, ho la Jumpad che ho messo prima appositamente per adesso. Ho la Jumpad che avevo messo appositamente per ora, palesemente. Ma proprio... Tutto calcolato. Eh, sì, però mi spara quello di Radius da dietro. Sto tiltando. Presa? No. Mamma mia. Oh, sto andando di alternator, eh. Sto andando di alternator. Mamma mia. Che forte. Che forte è l'alternator. E mi servono c'è l'escudo. Mamma mia, che forte. Madonna, che bello. 6,8 kg danni precisi, precisi. Stupendo. Eccoli. Là, da te. Distrutto la Catalyst. Mmm, 38 non è morta. Mmm, qua New Castle, lo vedete? No. Qua, raga? Sono leggermente guante. No. Ah, vabbè, è Ribbo che prende sti kill. Ok, ok, ok. Vabbè, prego Ribbo per entrambe le kill, nel dubbio. Cioè, oddio, in verità. Vabbè, dai, figa, un pochetto. Dai, non troppo. Un pochetto. Un pochetto. Prego, un pochetto. Non in maniera esagerata. Nico, 1. Trova, trova, trova. Nico. Sì. Aveva detto Nico, però. Io ho detto che c'è la sportività alla base di questa challenge. Sopra? Quanto, quanto, quanto? Sto affaitando? Altro team, altro team qua sopra. È craccato quello lì sotto. Non di loro è craccato. È colpito flash pochissimo, però gli ho fatto 16. Guarda che stanno qua, eh. Esatto, esatto, esatto. E io non riesco a salire top, raga. Dietro di me? Io non riesco a salire top. 160 l'avrei. Allora, guarda. E io non riesco a salire. Distrutta? Sono morta? Preso uno, raga. Non ci credo, la catalyst. Dai, ma cosa mi confermi? Guarda, guarda. Ok, preso. Preso. Altro team, vero? Non è vero, non è vero, non è vero. Ribo, ribo, ribo. Levati di qua, per favore, se riesci. Levati di qua, ribo, levati di qua. Riposizioniamoci due secondi. È sto a 9? No, vabbè, non mi importa. Minchia, sto aprendo in sta partita di alternator. Vabbè, ma perché ho l'alternator? Minchia, quando tengo l'alternator dallo start, una furia. L'arma delle venti. Che forte è l'alternatore, mamma mia. Raga, se domani tier list non la mettete S, madonna cara, oh, madonna. No, vabbè, allora chill. Tre team che fightano. Sì, io mi avvicino. Da dietro? Eh, lo sì, sì, ho visto, infatti. Forse Ricky si può riuscire a lootare. Un altro team da dietro, un altro team da dietro. Lo so, lo so, lo so, lo so. Se tu vieni qua, forse ti riesci a lootare questi che abbiamo ucciso qua e il mio castle che stava qua su. Eh, lo so. Ah, sopra proprio. E allora forse andiamo verso di qua, allarghiamoci di qua, verso il drop. Ok, sì, stanno proprio là dentro. Quasi craccata la Valkyrie. Colpito l'octe in oro. Finita. Ma, raga, appunto, appunto da me e non ho colpi, raga. Io neanche. Noccato uno, non ho più colpi. Eh, mi levo, mi levo. Non ho confermato uno, eh. Che pal. Arrivo, arrivo, arrivo. Minchia, io ho fatto la kill con i 18 colpi che avevo dentro. Forse li sento un'altra Vantage da me. Craccata Valkyrie, raga, one. Uno di vita, Valkyrie, uno di vita. Uno, letteralmente. Buono, bravo. Questi sono due, basta. E io farei questi, se riusciamo. Bravissimi. Rampart di merda. Ti prego, ti prego, ti prego. Vabbè. Preso. Buono. Minchia, raga, che parto. Ok, qua siamo pieni di loot, finalmente. Abbastanza meritato questo loot. Madonna, cara, oh. Eh. Ok, è sceso, è sceso, raga. È sotto il ponte, sotto, sotto, sotto. Lo vedete? Esatto, bravo. Distrutto. Salgo, allora. Davanti a me, davanti a me. Si pulla. Craccato. L'ho craccato, eh. L'ho craccato. L'ho preso. Non è da solo, eh. Non è da solo. Ma dai, mi ha pure sordito. Ce ne stanno altri, occhio. Occhio che tra 30 parte la seconda safe, eh. La terza safe, occhio. Ti ho ucciso, Nico? Ti ho ucciso? Venga, l'ho ucciso io. Vengo. Raga, da me, da me. Li sento, li sento, li sento, li sento. Qua sopra, qua sopra. Tantissimo qua sopra. 32 viola alla catalyst e basta. L'ho fatto una quarantina. Ok, ok, ok. Io mi allargo di qua. Sono salito, eh. Li sento da me. Ho l'altro, raga, penso. Ma ha detto c'è un'altra squadra? Non ho capito perché. Ah, da dietro, da qua. Da là dietro un altro team, mi sa. Non capisco dove, eh. Vado di qua. Allora, l'altro team stava qua. Esatto, lì sopra col... Madonna, col radio, schepalle. Vabbè, oh. Ci provo, ci provo in caso. Se vediamo che sono tutti full team, provo le 20 bombe. Se no, sti cazzi. Li ho davanti a me. Ma da dove, scusa? Dalla sopra? Fuse da dietro. Sono due ribo, hai visto? Fuse e... Vantage, vero? Fuse e... Cazzosa. Ah. Facciamo restare, facciamo restare, chi se ne prega. Si sono incontrati qua davanti. Eh no, no, no. Io vado qua a bordo. Io vado qua a bordo, che ce li ho davanti. Ma no, quanto è brutto, potete essere... È one shot lui? No. 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 Rip 20 bombe. Me l'hanno inculato, era un HP. Gli ho fatto 90 flash. Che palle. Ricky, provo a ucciderli, che magari mi batti. Vuol dire loro? Ok. Sto pushando anch'io, eh. Colpito pochissimo. Sì, raga. Bella partita. Mi è piaciuta. Ricky, si conferma il best sub. Solo una partita. Guarda, Ricky, se nessuno vince i 10 euro, li do a te, perché con te ho fatto la partita più bella. No, no, no. Serio, serio, serio. 24 di squadra. Oh, niente 10 euro, ma grossa partita. Minchia. Minchia. Dipende. Ma io mi sono divertito un botto. Capital City, Best Map, World's Edge, TRS. Nuovo contendente, Lil Botaita. In arte, Envy, Nesox. Che bello. Giocare con Loba comunque è bellissimo. E, Bota, tu hai un grosso peso, cioè, mi devi battere. Non ci sono alternative. Mi devi battere, lo devi fare per il content. Mi devi battere. E, Bota, devi vincere, eh, devi vincere. Ma ce la fai, ma ce la fai. Ce la fai, ce la fai. Ribon. Qua davanti a me, raga, davanti a me, davanti a me. Buono, buono. E tre, vabbè, figa, ho vinto. Tieni, tieni 10 euro subito, let's go. E, non sto neanche citando, cioè, tre hit di 30-30, tre kill. Vabbè, non so che dire. No, ma fuori, fuori. Ah no, non è vero. non è vero. È one shot. È là sotto, là sotto, è una capiera. È una capiera. Era uno, ma penso meno, 0,5, proprio decimali. Non aveva niente, aveva, aveva zero. Qua sopra, dentro, dentro, sopra ovunque. e vado sopra, io ho la jump pad, ho messo jump pad sopra. Colpita poco la brite, molto poco, tipo 30, eh. Preso uno, raga? La catalyst era colpita, ma molto poco. Raga, e sto trollando un botto. No, 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 sto trollando un botto. Aspetta, 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 mi devo concentrare. Lo sto facendo apposta per perdere, in verità. Mi fullo, mi fullo, mi fullo, sì, sì, ma lo sto facendo apposta per perdere. E restano, ma sta rissando il mio. Preso uno, che non è quello che avevo noccato. E vabbè, mi è pure stato rissato. Ma raga, era là, non ci credo, non l'avevo visto. Era qua, non l'avevo visto, che pal. Ma non ci credo. No, vedi, ho fatto queste partite senza octane, non mi sento più focussato per un cazzo. Sto facendo, sto facendo schifo adesso. No, non mi sento più, non mi... Prizzi, non dovevi giocare con me e togliermi octane. Non gioco mai più con te. No, 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 veramente, una mossa subdole meschina, no. Che schifo, che schifo. Io non gioco letteralmente nulla. Eh, ma io ti giuro, mi sento strano a mio agio adesso. Ero tornato a giocare bene octane, partita da 16 kill, poi ne ho fatta due partite senza. Niente. Ce l'hai l'emote quella del... Ecco, esatto, esatto. Ok, perfetto, perfetto. Vabbè, non conta botta perché hai aiutato botta, ma non è vero. Oh, no, no, sta partita ho sparato di merda perché non ero più abituato a octane. Palese, 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 palese. Era un parte, mi sa. Ok, ok, ok. È il team campione. Non mi sembravano devastanti, però non mi ricordo. Ma vicino da di qua? Ma quello che ho noccato io? Quello che ho noccato io, che fine ha fatto? Da me, raga? Preso un altro? Da me, da me è l'ultimo, penso. Non è vero, non è vero, non è l'ultimo, non è l'ultimo. Non è vero. Ma è pure stata restata la rampart in tutto questo, mi sa che palle. L'hanno restata ora. L'hanno restata ora? Horizon l'ho fatto molto poco, eh. No, raga, non mi piace. Ok, l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa, l'ho presa. Pure il Sirium è stato rissato, minchia. Raga, non so che dire, cioè, no, io non so che dire, non commento. Ma c'hai 1200 danni. grazie raga, grazie raga, grazie per la vittoria. Prego per i 10 euro, tranquillo, tranquillo. Ma d'altronde ho detto, qualcuno doveva vincere. Dai raga, ovviamente l'ho fatto apposta, comunque, cioè. in sto caso, eh, tu sei da play, no, ti do il codice della play. Ti ho mandato su Telegram la foto del codice. Primo vincitore della serata alle 23.18, il quarto o quinto contendente? Quarto, dai. grazie, grazie, grazie a te, cioè, insomma, grazie, grazie che almeno hai vinto. Notte, notte, notte. Bene raga, adesso che c'è un vincitore posso tornare a impegnarmi, comunque, tranquilli. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, supportatelo, se volete vedere queste sfide dal vivo senza tagli per intero, link di Twitch in descrizione, live tutte le sere alle 21 e buona serata. Mi raccomando, ogni sera alle 18 un nuovo video, iscrivetevi per non perderli.